Il 32esimo campionato stanzionario body cup fra il Dissolte Firenze, Papa Femmetti Allenatore Stefano Lavarini Con il numero 9, Laura Con il numero 13, Raffaella Con il numero 13, Raffaella Topovic Skowronska Il punto numero 25, Raffaella Con il numero 25, Raffaella Che si aggiudica il primo set, 25 a 16 Raffaella Che si aggiudica il primo set, 25 a 16 Raffaella L'affaella Raffaella Raffaella Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.